Perché oggi è l'ultima apparizione del Presidente Zandini, perché gli impegni lavorativi lo portano fuori in regione, lui ha delocalizzato, non ha letto, anche, per un certo momento lui è impegnato in un'iniziativa, in uno stabilimento nuovo che hanno acquisito, ma la delocalizzazione quando è vista così è benvenga, perché significa che l'impresa ha voglia ancora di fare l'impresa, purtroppo oggi è sempre più difficile trovare persone che hanno il foraggio di intraprendere, io questa mattina ho preso una persona, ero un po' di tardi anche per questo, perché fare l'imprenditore è comunque sempre più difficile, anche quando c'è una ripresa, una ripresa molto lenta, quindi a voi ragazzi, ho rilasciato un'intervista a Tvrs che mi ha chiesto che cosa prevedo per i giovani, voi giovani che state per uscire che classe è questa, state per entrare nella fase finale in cui dovete decidere se andranno avanti o no, qui non me ne vogliono le università che evidentemente fanno la loro brava attività di proselitismo, ma l'industria oggi ha bisogno di tecnici, possibilmente validi, ma tecnici, per cui se riusciamo a vederli impegnati da subito, anche con contratto a tempo determinato, non vi fate cruce di queste cose, fate esperienza, perché quando avrete maturata esperienza sarà ancora più facile trovare lavoro. Cercheremo di individuare se sarà possibile farlo un progetto a livello provinciale, perché questo? Perché riteniamo che tutti i giorni ognuno all'interno della propria casa, della propria abitazione, del proprio posto di lavoro abbia delle idee che non possono essere espresse perché a volte magari costa tanto esprimerle o costa tanto scriverle o addirittura abbia idee che praticamente non riesce a portare avanti per ragioni di costo. Ecco, questo concorso si pone proprio a questo obiettivo, cioè favorire proprio, fare in modo che queste idee possano essere scritte e presentate a delle aziende e quindi c'è il vantaggio da parte di chi ha le idee, che possono essere giovani, studenti, tecnici, quindi da una parte possono scrivere queste idee e presentarle e dall'altra praticamente c'è un'opportunità anche delle aziende, perché le aziende non hanno già un idea all'interno, praticamente non hanno sempre solo un'idea, hanno bisogno di idee giornalmente. Per noi è fondamentale capire, confrontarci e verificare se le idee che hanno le persone, anche le persone comuni, possono essere attuate, possono occupare un giorno sull'innovazione e che trova la Camera di Commercio responsabilmente vicina e convintamente presente, perché poi alcune cose si fanno per forma, per consuetudine, per opportunità, altre cose come queste si fanno invece con grande convinzione. La convinzione è che dalle idee possano nascere per questo territorio nuove ricchezze e dalle idee che nessuno ci può clonare e nessuno ci può rubare, possano in qualche modo ritrovare stimoli, possiamo tutti ritrovare degli stimoli. sulla pelle, ognuno nella sua esperienza, gli amministratori, gli imprenditori, i giovani eccetera, vediamo un momento di grande difficoltà, di crisi e tutti quanti siamo ben consapevoli che una delle ricette strategiche per provare a uscire da questa situazione di difficoltà è di qualche modo declinata nelle parole innovazione e ricerca. Dicevo prima declinata perché è facile dirlo, è molto più complesso praticarlo e raffarlo, perché per tutta una serie di motivi, a partire, lo accennava adesso il Presidente Gianfieri, dalla complessità dell'economia del sistema mondiale, dalla globalizzazione, da tutte le interconnessioni, interfacce che oggettivamente complicano il sistema. Per i primi tre classificati abbiamo previsto di fare una piccola presentazione del progetto. Presidente Casali, il premio quindi qui è veramente importante perché stiamo parlando di 5.000 euro come primo premio e di 2.000 come premio scuola. Io spero che il Preside gli utilizzi questi soldi per fare nuove strutture, qualcosa che possa servire, quindi nuovi laboratori, non le serie armali, nuovi laboratori. perché innovare, insegnare e fare sempre le stesse cose è più facile, invece impegnarsi per innovare nel modo di fare lezioni e impegnare i ragazzi non è di tutti i giorni, quindi un applauso alle insegnanti che ...